Qui parla Radio Torino. Abbiamo voluto offrire oggi ai nostri ascoltatori un programma eccezionale. Un auto, solange non posso. Non voglio in un paese in un paese in un paese. Hai troppo? Cosa è il proverbio arabo? Perché parli se puoi partire? Non si parla sul lavoro. Sai qualcosa da dire? Dilla cantando. Si usa così. Posso parlare con Gianni Saiен? Non, 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 non. Si, 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 si. Cosa cosa aveva dopo? I mani ho voluto lo superareso, è tutto quello. E' stato la sua quanto a me stesso. Grazie a tutti